Ciao a tutti, mi chiamo Lorenza Zanella, ho 62 anni e sono di Trento, una piccola città del nord Italia. Conosco Cagliani dall'ottobre del 2014 grazie alla mia insegnante di yoga. Quello che è successo da quel momento in poi è stato semplicemente fantastico. Moglie, mamma e casalinga a tempo pieno per scelta, mai avrei pensato di voler far qualcosa di diverso ed invece con Cagliani si è aperto per me il mondo del business, fra l'altro un business piacevolmente adatto ad essere condotto insieme a mio marito. Cagliani propone una carriera meritocratica e ben retribuita, più fatturi e più guadagni, donna o uomo che tu sia, senza differenza. E poi è stato bellissimo scoprire che occuparsi di Cagliani in coppia con mio marito non solo è possibile e molto piacevole, ma porta anche ottimi risultati. Come facciamo a dedicare tempo a questa attività essendo già comunque impegnati? Semplicemente vivendola. Sì, noi viviamo Cagliani, iniziamo al mattino e via via per tutta la giornata nei nostri momenti disponibili fino a sera. Non è difficile, basta provarci. I live Cagliani.